Sole 24 ore un articolo a firma di Giampaolo Colletti e Fabio Grattagliano dove parla di anche qua un'evoluzione di un fenomeno quello degli influencer c'è questo nuovo neologismo che ormai non ne possiamo più un po' di neologismi intorno all'influencer ma va bene così genui influencer per questo concetto dell'influencer genuino spontaneo naturale assolutamente questo è molto carino e diciamo ridimensiona ma anche da da un ruolo sociale all'influencer che alcuni influencer sanno già di avere ma altri no quindi potrebbe diciamo generare positività audiovisualità per tutto il sistema mi piace molto quando si parla di gentilezza cioè del fatto che i nuovi influencer utilizzano la gentilezza come modo di comunicare e basta paragonarlo a quello che succede nei media sui media tradizionali e sui talk show televisivi dove si urla e ci sono un po' di parolaccio quindi mi sembra che si vada proprio in controtendenza si parla anche di crorlo degli influencer classici e soprattutto del fatto che grandi brand come Valentino utilizzano degli influencer che siano socialmente molto attivi quindi nel terzo settore nel relativamente all'ambiente e soprattutto la parola autenticità cioè i brand sono alla ricerca di testimonial che come diciamo parlando di un di un nostro conoscente concorrente che rtl di veri normal people che un po' è il cavallo di battaglia la parola di scala di battaglia di rtl che una famosa conosciuta radio in questo caso l'influencer è un veri normal people e si rivolge al veri alla gente così normal people tra tra virgolette si parla anche di messaggi che devono essere coerenti quindi non devono essere sopra le righe e poi di questo aspetto molto affettivo c'è l'esempio di nonna rosetta che ci comunica che è una signora pugliese che ci comunica come diciamo quali sono le prescrizioni utili per comportarsi rispetto al covid non sappiamo però che nonna rosetta è vista in cinque continenti compreso la compreso la cina dove la chiamano donna maria quindi in questo senso è stato diciamo un modello assolutamente incoraggiante da seguire questo modello un po della dell'affettività sì poi in questo caso c'è da chiedersi poi qual è il confine tra una naturalezza iniziale una spontaneità un agire sul canale in maniera appunto rappresentando i tuoi valori il tuo essere eccetera e il momento in cui invece acquisisci una notorietà che a quel punto tipo nonna rosetta che viene tradotta viene distribuita eccetera eccetera poi come dire subentra quel marketing che va a utilizzare o vorrei utilizzare un altro tema tipo sfruttare una notorietà e lì riuscire a mantenere l'identità quella purezza iniziale diventa un meccanismo un po complesso per cui poi lì c'è veramente da interrogarsi esatto è un po diciamo quello che succede a tutte le diciamo le persone che poi hanno successo diciamo a mente alla fame si riescono a mantenersi diciamo a genuine o se poi intervengono altri fattori cosa che è abbastanza probabile però sono ottimista nel senso penso alla regina degli influencer quella che è considerata così in Italia che è la Ferragni che comunque si mantiene molto attiva anche con suo marito nel campo diciamo del terzo settore e comunque in un campo ancora diciamo positivo